Contagi da coronavirus, da una parte il rinnovato appello ai cittadini a non uscire di casa, dall'altra la necessità di lavorare per poter effettuare i tamponi. Il presidente della provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca, interviene in questo delicato momento di emergenza sanitaria. Dal nazionale al locale il messaggio ripetuto dalle istituzioni continua ad essere lo stesso, non spostatevi se non per reali necessità. Prego tutti i cittadini di non sottovalutare la situazione, vi prego di essere disciplinati, dice il numero uno di Villa Saporiti, un invito che rivolgo in particolare ai giovani, la vostra vita ma anche quella dei vostri genitori e dei vostri nonni può dipendere dal vostro comportamento. Quindi una riflessione pratica sulla gestione, sono convinto che sia fondamentale creare quanto prima possibile dei centri esterni agli ospedali per cercare di allargare la platea delle diagnosi, i cosiddetti tamponi, spiegabongiasca e mappare gli ultimi spostamenti dei positivi, tutto ciò al fine di evitare che ci siano nuove fiammate nei contagi. In questo senso mi farò parte attiva presso le autorità competenti in regione. Infine il presidente della provincia ringrazia chi è in prima linea, dal personale medico sanitario a quello delle forze dell'ordine, a tutti coloro che sono impegnati sottoponendosi con senso del dovere a sacrifici e rischi. Siamo tutti con loro ma, ribadisce in chiusura Bongiasca, non dobbiamo esserlo solo a parole. Adesso, subito, serve un comportamento responsabile da parte di tutti per uscire da quella che è stata definita la nostra ora più buia.